Potete vedere oggi siamo su Skyrim Perché Un mio amico Oggi mi ha chiesto Come fare ad arrivare In un determinato punto Della mappa Cioè mi ha chiesto dove Come si arriva dai barba grigia Allora Dai barba grigia E' facilissimo Ad arrivarci Bisogna tanto Essere a Cioè avere Come posso dirlo Allora aver Cioè non so come Spiegarmi Avere scoperto Ok Aver scoperto In Varsed Poi dopo che Avete scoperto In Varsed Che ora vi faccio vedere dov'è Bisogna Semplicemente Ora come potete vedere Qua c'ho Tantissime Magie Che adesso Le metto sempre Sulle miei magie Che so che Voglio usare Che voglio usare O che almeno Userei Quando ne ho voglia Tipo come Su alterazioni Mi faremo Su paralisi Invisibility Fiamme Evoca arco Cura Arena Enforza Stormcall Allora Vi stavo dicendo Vabbè tanto Questa è casa mia Quell'ho comprata Da A Windham Facendo una quest Che è Nella città Ora Per chi Non sapesse Arrivare Le barba grigia Vi faccio vedere Come Allora Un metodo E aver già scoperto Prima Il Paese Città Villaggio Chiamatelo un po' Come volete Il villaggio Di In Varsed Che a fianco Proprio Che è Tra la Montagna Che ora Vi faccio vedere Perché voi Principalmente Dovete Arrivare Qua E se siete Da questa Parte qua Potete Fare Tutto Così Poi Passerete Da qua Poi Qua Staglierete Passerete Da qui Poi Andrete Qua E farete Giro Lungo Di qua Oppure Sempre Da qua Potete Scegliere Di Scendere E fare Tutto Altro Giro Ma È Più Lungo Quindi Se avete Già Scoperto Il villaggio Di In Varsed È Semplice Vi farà Sponare Qui Poi Dovrete Scendere Un pochettino A me Non serve La chierovegenza Perché Sto Già La strada Poi Qua C'è Un bivio C'è Il ponte Il Non me la Senta Aspetta Chierovegenza Aspetta Devo vedere Chierovegenza 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 No Non è Corattrice No Non è qua Su alterazione È su Illusione Credo Sì sì Eccolo qua Aspetta Stai andando A Rotgar Alto Dovrei Andarci Anch'io Soprattutto I barba grigia Tendo nuovo Ma Purtroppo Le mie gambe Davvero Tieni Prendi Questa borsa Piena di provviste Allora Io ti Ho ti fatto Aspettate Che ora Faccio diventare Il giorno Sinceramente Non so Ma Ancora Hai permesso Magari Fa Attenzione Allora Quello Che Chierovegenza Potete Vedere Dove Dovete Andare Ok Io devo Arrivare Su A Otgar Alto Quindi Andare Per Questa Strada Ok Ci saranno Un po' Di Animali Da Uccidere Ma Non Non è Precoppante Dovete Seguire Il Sentiero Scalini Ok Ok Allora Poi Sempre Su Dovete Sempre Fare Così Dovete Seguire Proprio Il Sentiero Che Dove Ci sono I Scalini Che Semplice Io sto Uccidendo Le capre Perché A meno Che Io Ottengo I Cosciotti Di Capra Dove L'anello Non me ne faccio Niente Ok Allora Io vi consiglio Di salvare sempre nuovi progressi cioè ho creato un secondo salvataggio e salvato sempre quello poi dovete scendere e seguire il sentiero degli scalini qua ci sarà un'altra persona seduta guarderà l'elitto l'elitto come si chiama la scritta mamma mia la prima l'ho filato la seconda l'ho preso c'è una ragazza che guarderà la tavoletta scolpita e aspetta anzi no usiamo quelle d'ambra di di frecce nightingale food nightingale food nightingale food e poi andate qua vabbè posso anche levarla la chiarovegenza tanto è completamente inutile sto già facendo vedere dove bisogna andare nightingale food fascia da guerra oscura superiore dovete andare e arriverete qua a hotguard alto e ci arriverete ecco qua ora io vabbè devo consegnare il adesso i fornimenti di climec però una volta che siete arrivati qua per chi è la prima volta dovete andare entrare in questa porta cioè salire le scalini entrare in questa porta e dovrete cercare no wolfgar no uno dei quattro maestri che è angir quello di prima è wolfgar e non è lui dovete cercarlo in questa fortezza fuori e in art no perché wolfgar e in art e borri credo sono i quattro maestri con cui non puoi parlare cioè puoi parlarci ma non è che ti dicono niente granché guarda che vi faccio vedere perché allora vedi dicono solo poche cose perché la loro voce è talmente forte che se parlano possono possono farti del male allora aspetta che ho visto qualcuno qualcosa ah no era una sedia no niente allora quindi anche il dov' sarà quasi sicuramente fuori poi ecco ecco borri non è lui allora quindi anjir dovrà infatti eccolo qua si che ripaghi la nostra fiducia la fiducia di partor max il suo nobile spirito la seccezza secolare la sua profonda comprensione della nostra esistenza tutto perduto e per cosa che ti hanno usato batte rim non abbiamo nulla da dirci l'assassinio di partor max va oltre la mia capacità di perdonare l'assassinio di partor max vabbè si è arrabbiato con me perchè ho ucciso partor max che il loro maestro che è un drago dovrete andare a parlare con lui ora vi spiego chi è partor max partor max è un è un drago fratello di di aldwin e uno dei suoi ex servitori allora io ho dato che non mi faccio niente scendo di qua o in teoria essendo un po' più debolucci di vita scenderete da dove siete passati e dovrete andare lì vi daranno vi daranno alcune cose vi daranno la seconda parola la forza inesorabile che è ro e daranno una parola nuova che è la prima parola dello scatto turbinante è un urlo che ti permette di andare veloce fa uno scatto che ora poi vi faccio vedere non qua sulla montagna perchè sennò mi faccio estendamente male e poi boh allora ora sono sceso ora vi faccio vedere l'urlo ora mi metto in terza persona l'urlo è questo qua tanto le frecce d'ambra sono queste qua quelle che ho sulla schiena queste qua belle mi piacevano poi l'urlo completo è questo loro ti danno così wood poi voi quando troverete la prima parola da alle cascate nel tumulo del al tumulo del cascate tristice e la sblocca della prima parola è questa fusta poi un altro messo vi darà anche la seconda parola sarà fustro e poi un altro dopo la prova vi darà l'urlo completo c'è anche la parola da e avrete l'urlo completo ora vediamo un attimo se riesco due bei cerchi uno e due mamma mia ok se è possibile cercate di avere più frecce possibili in acciaio perché meritano è bella come questo non ti riguarda è immoral per caso devi confessarmi qualcosa morirai dunque non dovevi venire qui fustro 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 dov'è 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 quello lì l'ho perso no fior di montagna c'è un tizio qua allora tanto questo lo so dammi la tua roba poi l'altro infatti era qui prendiamo la roba di vetro che vale un casino no 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 sopra i 150 no 700 no no scusatemi ma io prefisco ora vorrei capire dov'è la troppi erla dove si era messo non mi interessa allora ah sì devo riferire al climat che ho consegnato le risorse a quelli lì scusate scusate io ho fatto quello che dovevo quindi torniamo nato a quattro allora aspetta che dire che dire ah scusate scusate ok fermiamo fermiamo ok ok se avete visto in alto a sinistra il sangue di bestia non mi fa dormire bene vuol dire che sono un lupo mannaro ora 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 io ho installato ho installato alcune mod adesso devo vedere se ce l'ho installato una mod una mod che che ehm si l'arena snowfx c'è l'arena che che l'arena è che è che è che che è che che è che che è che è che è che 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 che